La seconda volta di Scarpantonio arriva senza grossi colpi di scena e con una percentuale a dir poco bulgara. Il giovane direttore di Banca rastrella il 71% dei voti grazie alla lista Insieme per Controguerra, che fonde esperienze della passata amministrazione a volti nuovi del PD. Una bella affermazione in controtendenza rispetto all'andamento nazionale. Se l'aspettavo una vittoria così schiacciante all'inizio di questa campagna elettorale? L'inizio di questa campagna elettorale non mi aspettavo di vincere in maniera schiacciante, mi aspettavo di chiedere una campagna elettorale dura, difficile, però ero convinto comunque di vincere e di rivincere le elezioni amministrative. La vittoria di oggi sta a significare della buona azione amministrativa che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni, ma sta a significare quella voglia di rinnovamento che c'è nel nostro Paese. Tant'è, noi siamo presentati in questa maniera, nel segno della continuità e del rinnovamento. La prima cosa che faremo è che la prima delibera che voglio fare sarà quella di istituire la consulta giovane, quindi proprio di partire dal mondo giovanile, mettendo in campo uno strumento che avvicini giovani all'attività amministrativa. Si ferma invece al 29% l'avversaria, Vincenzina Marini, spalleggiata dalla compagine Un Futuro per Controguerra. La dottoressa, medico di base dello stesso sindaco, è apparsa molto serena anche di fronte ai 502 voti ottenuti e alla debacle elettorale. La sconfitta me l'aspettavo senz'altro, ma forse non in questa misura. Cosa crede che abbia influito e abbia fatto vincere i vostri concorrenti? Beh, guardi, il sindaco uscente è sempre favorito, ha anche lavorato bene, diciamo, un'ottima persona, forse avrà avuto il giusto riconoscimento. E per Scarpantonio il 2008 sarà un anno ricco di novità. Dopo la conferma nel ruolo di primo cittadino di Controguerra, arriva la notizia che in estate convolerà giuste nozze con Paola, la fidanzata storica. Questo è il primo passo importante per Mauro Scarpantonio in questo 2008. Si mormorava però di un altro passo importante, vogliamo dirlo, del matrimonio. Arriveranno queste attese nozze? Sì, no, il matrimonio è confermato, quindi è appascinto dall'elezione elettorale, l'elezione è confermata, quindi il 2008 sarà anche l'anno in cui mi vedrà marito. Quindi sindaco e marito, tanti auguri. Grazie, grazie.